ciao amici sapete qual è stata una delle diete più googolate di recente forse l'avete cercata anche voi sto parlando della morning banana diet la dieta delle banane al mattino è famosa per avere fatto dimagrire diverse star di hollywood e si basa su un'idea molto semplice mangiare solo banane al mattino e poi seguire orari e regole precise nei pasti e nello stile di vita le regole sono queste vediamole insieme se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video tanti mi piace tanti nuovi video per quanto riguarda i pasti a colazione una o due banane con acqua tiepida a pranzo cereali leggeri con verdure crude a cena proteine magre con verdure cotte la cena non oltre le 20 per non andare a dormire con la digestione ancora in corso se volete fare uno spuntino sapete cosa consiglia una banana esatto un'altra regola della dieta e bere acqua a temperatura ambiente per tutto il giorno lontano dai pasti la dieta obbliga a dormire almeno sette ore all'orario di cenerentola non oltre la mezzanotte ma la regola d'oro è anche questa smettere di mangiare un attimo prima di essere del tutto sazi scusa ma perché proprio le banane la banana è un frutto ricco di carboidrati e zuccheri calorico sì ma con proprietà nutrizionali speciali a tre volte più potassio rispetto alla classica mela al giorno che toglie il medico di torno è anche un'ottima fonte di fibre amiche dell'intestino che aiutano a sgonfiare e aumentano il senso di sazietà ma ciò che la rende ancora più unica e speciale è il triptofano una sostanza che migliora l'umore perché il corpo la trasforma in serotonina l'ormone della felicità così in realtà si pensa meno al cibo come riempitivo per la fame nervosa e si dimagrisce in modo sano la dieta delle banane promette di far perdere 4 chili in 7 giorni può essere sicuramente se abbinata al giusto movimento e alle abitudini sane di cui parlo sempre nei miei video iscrivetevi al canale per conoscerle tutte abbonatevi per sostenere il progetto di divulgazione del canale e condividete questo video molte persone pensano che le banane facciano ingrassare così invece sapranno come mangiarle mangia consapevole e vivi meglio